Aspetta, fammi a terra l'abbre Mamma mia che tipo Boom? Che tipo dai Che tipo Se fai come l'altra volta, come ieri no Non c'entra un cazzo Ma ieri guarda invece di sparare ai nemici Spararai a me con i poteri è entrata la pucciacca di che l'estra vecchio minchia manca un'arma c'è qua arrivo non morire bro sta arrivando una guardia è uscita prenditi le cose mitragliatore preso altro mitragliatore preso ce ne sono due vabbè copa però caccia all'improvviso è qua è qua pietro coprimi pietro è la pietro è la pietro è la ma che cazzo vieni con lo spara band che ti serve ma io ho visto i poteri quasi non mi sbaglio hai visto un cazzo allo mi ci hanno fatto gli occhi sicuramente un riflesso letale ecco davanti a me non ho materiale ma cazzo come gioco così mamma prenditi il suo fucile lo vedo lo vedo raga lasciatemi un paio di bretti l'assalto per favore sta arrivando vuole sparare la benzina questa ci fa saltare appunto scappiamo no assalto presi l'assalto assalto? non ne ho uccide assalto ehi vatti eccolo scappa ha tratto rock tordum è morto è morto 20 poteri che prendo la scheda andiamo a cavo nemico bastardo è gentilmente fregato di una cota più tutte le cose no 2 caccia 3 scala 3 scala 3 scala 3 scala prendete i sfruzzini qualcuno che io non posso io mi sono preso 3 kit medici e le pozioni piccole prendetevi non so prendete gli sfruzzini che sono meglio io porto gli scudini io proiettili assalto non ne ho io porto scudini che porto i medici 28 proiettili io ho 82 andiamo via dai guardate che mi stanno mandando le scritte torna là torna là come eri prima eh 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 vabbè però manco le foto bisogna fare in base livello il cecchino c'è il cecchino atterrato col cecchino ho atterrato altri di qua aspetta che l'ho finito dov'è indichamelo rivedo io pusho bravo butta i poteri butta i poteri spamma 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 ucciso uno tutti qua sopra sono raga non ho proiettile questo è il bello ucciso un altro ucciso anche l'altro io sono morti quante eri che sono qua non ho proiettile a santo porco dio non ho proiettile a santo come cazzo vado a vedere che sconcentri le persone va ammazzo io l'ammazzo io vabbè vai la dentro che c'ho le munizioni ucciso vai vieni qua stanno vicino vai qua ho messo il puno la demoliamo ci andiamo sopra io costruisco e vado sopra no non c'è nessuno pesce munizioni mi servono no pesce mi servono munizioni no pesce prendete la zipline gente qua dentro lo sento la sono tutti la qua qua ne sono tutti e tre sono non sparare no per combattono dietro mamma mia l'ho colpito uo ha atterrato ha atterrato andiamo andiamo allora alla rembarni allora ragazzi ora sta prendendo il combine non sta rendendo di animale vieni prendiamo la zipline andiamo venite 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 con noi c'è anche lo spagnoccio sopra la casa ucciso 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 uno spara continuo spara continuo sopra la casa aspetta aperti cisco uno vediamo perfetto bravo 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 prendete tutto prendete tutto non lasciate niente ok ora il colpito a salto c'è chi li vuole io sono pieno raga c'è un bot mi raccomando vabbè ma il bot non spara quindi non credo il bot spara il bot spara attendo un tocco genve li vedo li vedo li vedo li vedo li vedo sono qua qua dietro ce n'è uno eccoli bombardatelo ucciso controllo non sprecare i poteri no no quello infinito quello infinito eccoli eccoli dove stanno va bene che vende il fumo del nonno li vedo eccolo un altro è qua lo so lo so attenta che ci cecchino sono tutti qua sotto raga un altro a destra al lato alterrato bravo Piero da sotto ucciso ne manca uno eccolo dov'è non lo vedo ecco te l'ho piattivito è morto 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 preso mattarmi foto da chi ce n'è rimasto un altro uno solo è sopra il figlio di puttana il figlio di puttana è sopra che sta sparando è sulla collina è sulla collina lo scagnozzo lo sta ammazzando il figlio di puttana si fa la mazza Piero valla a prendere massacralo vai tu vai tu valla farà pietra l'ultima che ti lo fa no io no giornata dove l'ho vinto dai eh ah mi ha dato mi ha dato un guardate raga guardatemi non ti posso guardare ho fatto la vittoria reale con doom guarda come si è messo doom ho fatto la sfida grazie a tutti Grazie a tutti.